benvenuti e bentornati sul canale per un nuovo video allora questo è un video che sta spopolando su youtube che ho visto fare un sacco di colleghe e in pratica consiste nel chiedervi su instagram di scrivermi appunto di scrivere a me insomma le ragazze che l'hanno fatto quelle che sono le vostre supposizioni su di me quindi delle cose che ritenete di sapere o che pensate di sapere che mi riguardano e io appunto le leggerò e vi dirò se queste vostre supposizioni sono vere oppure oppure no vediamo insomma che cosa mi avete scritto può essere un occasione per vedere se mi conoscete bene per raccontarvi anche magari qualcosa di me e parlare anche insomma chiacchierare di quelle che sono magari delle mie caratteristiche o comunque delle cose che sto vivendo in questo momento allora vado sulle sulla mia storia recupero le domande allora silvia simpson mi dice secondo me sei tipa da musica italiana eros pausini tiziano ferro allora hai quasi azzeccato nel senso che sono anche tipa da musica italiana ma non solo in effetti le persone che ha citato non sono tra i miei cantanti italiani preferiti eros pausini tiziano ferro li ascolto volentieri ma non li metterai tra i miei cantanti preferiti diciamo che i miei cantanti preferiti italiani sono i cantautori quindi di più diciamo un de andrea un de gregori senz'altro però mi piace tanto la musica italiana anche se attualmente sono in fissa con la playlist di spotify italia in alta rotazione mi pare che si chiami adoro tutta la musica italiana giovane recente vedi salmo vedi ultimo i maneskin eccetera eccetera ma un'altra mia grande passione è la musica rock anni diciamo dalla metà degli anni 70 fino agli anni 90 quindi nirvana eccetera passando per i pin floyd i genesis i polis insomma chi più ne ha più ne metta queen eccetera quindi grandi anche gruppi anni 80 artefusa appunto gioieria dice sei tenace non lo so ragazzi se sono tenace sicuramente sono in una ho raggiunto un'età in cui per forza di cose nella vita qualcosina l'ho già passata nel senso che dire sono settenace a soli vent'anni magari lascia il tempo che trova quando lo affermi non dico la soglia dei 50 che mi fa un po impressione però insomma via ne ho compiuto 47 quindi qualcosina nella mia vita l'ho vissuto avuto dei bellissimi alti nella vita pochi e ho avuto anche dei bassi e questo diciamo che può essere considerato sicuramente un periodo molto basso della mia vita non sto passando un buon momento per cui forse sono tenace perché alla fine della fiera non mi sono mai arresa ho continuato a cercare di rinascere di ritrovare un qualcosa per cui valesse la pena andare avanti quindi forse si può dire dedina 3691 mi dice sei una persona speciale questo lo prendo come un complimento quindi non risponderò perché giustamente non posso essere io a dirvi sei così oppure no mi fa piacere che a qualcuna di voi traspaia questa questo bel complimento da farmi ciao non tolleri dice aurora pattoneri non tolleri la gente che ti sta troppo addosso che vuole condizionare la tua vita questo è molto vero nel senso che no le imposizioni non le tollerò alla fine credo di essere stata una persona abbastanza indipendente ma permetto troppo alle persone a cui mi affeziono cioè quando mi affeziono ad una persona tendo a non avere limiti nel permettergli quelle che sono diciamo gli atteggiamenti dei miei confronti divento veramente arrendevole quindi non lo so non lo tolgo in linea di massima ma non so poi quanto riesco a oppormi hai un bel culetto dice patti made in italy e di questo insomma lo prendo sempre come un complimento poi pelli underscore punto underscore pelli underscore punto underscore dice non capisco se sei singolo fidanzata ma questo non era un video di domande era un video di vostre supposizioni quindi no domande anche se credo che lo sappiano tutti se sono singolo fidanzato elvira troise dice so solo ciò che vedo una splendida persona di sani principi morali molto determinata penso di dare ragione per entrambe le cose sicuramente cioè splendida persona no anche qui complimenti grazie però si sani principi morali molto determinata si è vero sono molto determinata nel senso che nelle piccole cose che mi prefiggo di regola di fare ci do dentro finché non le raggiungo certo è che come tutti ho dei periodi difficili in cui mi viene più arduo perseverare perché mi sento veramente un po messa al tappeto per cui in linea di massima però sì donatella 9 martini dice sei buona ma non fessa sei forte indipendente sensibile fragile onesta non so che dire perché si tratta assolutamente di complimenti e me li becco tutti con vera vera gioia sono buona ma non fessa non lo so perché fino a un certo punto ripeto quando c'è di mezzo l'affetto perdo di lucidità non riesco a vedere nemmeno bene quando mi si sta trattando da fessa se lo chiedeste a vittoria che come sapete una mia grandissima amica lei mi dice sei troppo buona angolo quindi devo dare forse retta a chi mi conosce bene sei forte indipendente sensibile fragile sono forte penso penso di sì anche se in questo periodo penso spesso di no però poi alla fine magari anche guardandomi indietro vedo che da grandi cose veramente pesanti sono andata avanti quindi forse sono forte indipendente per forza posso contare veramente su me stessa al cento per cento sia per quanto riguarda famiglia d'origine sia per quanto riguarda la mia vita attuale sì sono indipendente sensibile fragile sì sono molto sensibile e attualmente anche molto fragile sono onesta sì sono onesta posso dire di essere molto onesta sei una gran lavoratrice dice marti 16 10 72 gran lavoratrice è appassionatissima di sport assolutamente sì sono una grandissima lavoratrice perché lavoro dall'età di 16 17 anni già lavoravo e sono quindi indipendente economicamente fin da quell'età quindi ormai sono più di 30 anni che lavoro e che sono appassionatissima di sport questo lo sapete non vivo senza lo sport è la mia ancora la mia cura la mia salvezza la mia passione my sweet colors dice sei una persona molto dolce ma forte quando necessario questa cosa vedo che traspare molto lo sentite molto questo dualismo come caratteristica che mi contraddistingue questo ho fatto essere tenera dolce fragile sensibile che sono assolutamente tratti che mi riconosco nel carattere però mi dite tanto tantissime anche sei forte quando necessario perché probabilmente è permeato il fatto che nonostante molte difficoltà che ho dovuto affrontare mi sono risollevata ma forse non è una cosa che so fare solo io forse tutti noi lottiamo perché l'istinto di sopravvivenza ha la prevalenza no credo hai la sinusite dice rv 54 e ha ragione perché soffro di sinusite da sempre ho il setto nasale deviato appena mi amano un po mi si accumula tutto il catarro qua nelle orecchie che bei discorsi e quindi si si sente anche dalla mia voce nasale che soffro di sinusite hai ragione hai difficoltà a chiedere aiuto alle persone che non fanno parte della tua ristretta cerchia di amici in realtà è assolutamente vero non ho mai chiesto aiuto così a persone che non fanno parte della mia cerchia di amici ma nemmeno sono di quelle persone che con facilità chiede aiuto ecco io molto molto difficilmente chiedo aiuto faccio molta fatica a chiedere aiuto piuttosto mi macero nel mio problema nella mia solitudine nella mia stare male ma fatico a chiedere aiuto non sei una persona che pulisce casa cento volte al giorno ha ragione però pulisco casa costantemente cerco di tenerla pulita il mio problema è che la casa è molto piccola ho tante cose quindi ha un aspetto diciamo di disordine perché non ho posti dove mettere le cose materialmente ho una casa molto molto piccolina per esempio già quando tiro giù la roba dello stendino la butto qua sul tavolino e fa già disordine per cui sì la casa è proprio purtroppo molto piccola e tenerla un po instagram style è impossibile questo me l'ha detto nane 8 8 3 silvia iampieri dice non parli più con in tua madre non è un argomento che vorrei affrontare perché non riguarda solo me perché riguarda delle dinamiche più complicate ovviamente che che convolgono altre persone però insomma sì non c'è questo grande rapporto vale ve no aspettate vero leo perla dice sei molto concentrata sulla cura del tuo corpo verissimo mi devo dare ragione però vorrei anche che si capisse che è anche un qualcosa che adoro l'estetica non sarei un'appassionata di beauty di make up eccetera eccetera anche di sport per questo motivo senz'altro il risvolto estetico è parte integrante del mio interesse per lo sport ma c'è un risvolto ancora più importante prendermi cura del mio corpo e ottenere dei risultati è come una conferma di controllo e di capacità e di risultato e di obiettivo che mi mi dà molta energia mi piace tanto per seguire un qualcosa avere il controllo della situazione riuscire a ottenere dei risultati c'è proprio un risvolto psicologico molto importante mi sembra di percepire un carattere dolce e sensibile uniti a una grande classe questo lo dice rarena che è ricardo appunto che è un ragazzo con cui ho stretto un'amicizia virtuale in canali che riguardano soprattutto lo sport e lo ringrazio perché ha azzeccato poi vabbè il fatto che mi dica che c'è una gran classe lo prendo ovviamente come un bellissimo complimento è dolce e sensibile appunto riccardo sei veramente uno dei tanti che me l'ha detto in questo in queste domani queste anzi scusate affermazioni che mi avete mandato mi fa piacere nelle discussioni di famiglia sei la saputella dice ale bebo hai ragione cioè è proprio vero io sono un po saputella cioè è assolutamente la verità sì un po saputella lo sono sempre stata fin da bambina anche mio fratello come me siamo uguali infatti grandi scornamenti grande amore minspeoni silage 82 mi fa una domanda e anche qui mi chiede sei singolo ora ma non è un video di domande quindi è un video di vostre vostre affermazioni a cui io magari risponderò sì o no però devono essere vostre affermazioni e non domande non sai parlare in dialetto sardo dice selene underscore pugno no sbagliatissimo so parlare perfettamente in sardo sono cagliaritana sono cresciuta con i nonni che parlavano assolutamente in sardo e quindi io parlo molto bene il sardo lo capisco e lo parlo ho messo giù due parole di sardo certamente adesso non ho la possibilità di parlarlo con nessuno certamente in moide non devo suggerire un nusciunusu per cui mi è difficile praticarlo ma non me lo sono assolutamente dimenticato ma non mi duseo assolutamente sgarescia questo è un campidanese è proprio il dialetto tipico della zona di cagliari anzi è proprio casteddaio questo se qualcuna di cagliari mi sta ascoltando riconoscerà l'accento tipico di cagliari in realtà hai creato l'elizir di lunga vita e non vuoi condividerlo con nessuno dice manolina 1984 no si non lo so lo prendo come un mega complimento devo dire che spessissimo mi viene detto silvia non dimostri la tua età che vi devo dire la cosa mi fa assolutamente piacere diciamo che il mio più grande desiderio essere la versione migliore della 47enne che posso essere ecco certo che combattere un po' questo 50 anni che sta così all'orizzonte non mi dispiace non potresti mai bere latte dice lenina 72 e mai affermazione credo che tra tutte le affermazioni questa è quella dove posso rispondere in maniera più categorica hai assolutamente ragione ragazze se io penso soltanto all'idea di bere latte mi sento male penso che tu non sappia fingere dice mimimamau non lo so non lo so nel senso che non so fingere simpatie che non ho sono sempre stata così se mi stai sulle bowls lo capisci in 3 2 1 non ce la faccio quindi se lo dici in questo senso hai ragione sei una persona che ha il terrore di invecchiare nikki 80 uvi 15 allora sicuramente ho il terrore di invecchiare perché non credo che piaccia a nessuno che bello vi sta avvenendo le rughe ma c'è un motivo un po' più un po' più tenero per cui ho terrore di invecchiare sono sola non ho figli e quindi ho questo terrore di diventare vecchia e di stare in solitudine purtroppo la nostra è una società che va verso la solitudine dei vecchi un tempo i vecchi erano diciamo parte integrante delle famiglie invecchiavano in famiglia circondati da amore, cure eccetera man mano si è andati sempre più verso la solitudine case di riposo, anziani soli e purtroppo persone come me che non hanno figli si trovano davanti a questo problema ancora di più quindi mi fa terrore la solitudine futura il fatto di non essere più autosufficiente di perdere le mie forze che adesso ho e quindi sono assolutamente nel pensiero che wow posso fare tutto posso sopportare qualsiasi tipo di sforzo fisico non ho paura di niente e di nessuno ma così non sarà il futuro e ne ho terrore poi Frappi92 dicevo di arrivare in ritardo agli appuntamenti o al lavoro Frappi hai ragione a metà perché io sono una inguaribile ritardataria mi sta dietro soltanto Vittoria che che lei ne dica lei sostiene di essere meno ritardataria di me ma non è vero però al lavoro arrivo puntuale arrivo anche in anticipo quindi ho questa scissione perfetta tra vita privata e vita lavorativa per cui al lavoro arrivo sempre strapuntuale anzi pure in anticipo e nella vita privata sono una ritardataria cronica da quando sei adolescente hai sempre avuto i cappelli lunghi no li ho tagliati mi ricordo che quando avevo 24 anni prima di conoscere Pablo ero fidanzata con un ragazzo con cui sono stata a 7 anni e quando l'ho lasciato voglia di cambiamento ho tagliato i capelli così corti cioè li avevo lunghi così li ho tagliati corti corti così pentitissima subito poi li ho fatti ricrescere sei molto sensibile e fragile anche se tendi a nasconderlo sì sono molto sensibile e molto fragile soprattutto fragile in quest'ultimo periodo della mia vita basta un non nulla che certe sicurezze ritrovate eccetera una giornata no un avvenimento boom mi mandano tipo infrantumi come un vetro quindi hai ragione secondo me sei una di quelle persone che spreme il tubetto del dentifricio dal centro dice disperatamente punto chiara e ha ragione io spremo sempre il tubetto dal centro se non che poi dopo quando è tutto spremiacchiato in maniera terribile porto rimedio alla cosa e lo spremo nella maniera giusta Vitaliana Fly categorica due parole ma categorica e sicura di quello che dice ami Pablo e devo dare assolutamente ragione a Vitaliana Fly non starò a spiegarvi le dinamiche di questa vicenda che è tanto comunque appassionato una parte e anche giustamente perché mi seguite mi volete bene siete curiosi e ve lo avevo presentato avete ragione cioè non ho mai detto che non aveste ragione su questo tipo di discorso il discorso è che a volte a volte sempre secondo me si ha piacere a condividere le cose belle quando magari ci sono dei momenti tristi e brutti non li si vuole condividere soprattutto in una piattaforma dove ho sempre cercato di portare contenuti frivoli, divertenti magari anche di riflessione però proprio non magari certe intimità dolorose detto questo quindi non vi starò a raccontare alla rava e alla fava l'affermazione è assolutamente vera è una persona che farà parte per sempre della mia vita che è a cui voglio bene in maniera enorme, gigantesca sei atea dice sempre Vitaliana Fly hai assolutamente ragione sono completamente atea sempre Vitaliana Fly dice una terza cosa ma qui non hai ragione vorresti scappare da Milano allora a me Milano piace tanto è che è una città dove tendo a sentirmi veramente molto sola perché faccio tantissima fatica ad avere delle amicizie e questo si ripercuota nel fatto che a volte veramente non ho una grande vita sociale e la città non si presta ad essere proprio una città molto gioviale da certi punti di vista però io sono affezionata a Milano qua ho il mio lavoro qua ormai ho la mia vita da 16 anni e tornando a Cagliari non so se le cose cambierebbero anche perché c'è il problema lavoro Mickey Solonca dice ti piacciono i cappelli 100% vero adoro i cappelli ne ho una collezione sterminata qua a mia sinistra ho tre scatoloni pieni di cappellini di lana di tutti i tipi ti piace Jennifer Lopez io adoro Jennifer Lopez Jennifer Lopez è tipo il mio mito la mia dea la amo è la 47enne anzi lei ha un anno più di me dovrebbe averne 48 che adoro e amo al di sopra di tutto sei ambiziosa dice Stefanuzza no non sono ambiziosa e questo credo che mi abbia sempre non è stato un bene dovevo essere più ambiziosa puntare un po' più in alto mi sono sempre abbastanza accontentata perché se stavo bene se stavo serena non avevo questa ambizione che mi logorava e mi portava magari anche avanti Silvia dice ultimamente ti senti sola e mi dispiace tanto sì devo dare assolutamente ragione mi sento molto sola non è un periodo facile mi sento sola inutile girarci intorno mi sento sola credo che ti sia stancata di abitare a Milano no ni come ho detto prima non mi sono stancata di abitare a Milano mi sono stancata del fatto che Milano è una città abbastanza chiusa e quindi faccio fatica a socializzare però non so se da altre parti è la stessa cosa non lo so poi emi.villa69 mi dice sei una donna in gamba quindi questo lo prendo come un complimento grazie poi vediamo ancora la mia convinzione è che tu stai soffrendo per amore in questo periodo sbaglio c'è una parte di vero sicuramente sto soffrendo anche per amore ma sto soffrendo proprio per un grande periodo di incertezza cambiamento paura solitudine fragilità dovuta da un cambiamento che è partito senz'altro da dalla mia situazione sentimentale ma che poi ha coinvolto tutto quello che è il mio mondo le mie certezze quindi si può essere anche partito da quello sei tosta e sei capace sarai capace di risorgere come la fenice questo io lo prendo come un super augurio e quindi grazie ori ori make up che ho conosciuto di persona e ciao Diana mi dice mi dice un sacco di cose mi dice allora avendoti vista anche dal vivo penso che sicuramente tu sei una persona socievole e simpatica però sei un po' come me sorridente con tutti ma mica vera di poche ironica perché sei riuscita a scherzare anche su argomenti che sicuramente sono dolorosi per te io sono molto ironica ragazze molto ironica e uso però l'ironia per nascondere dei dolori a volte cerchi di superare le tue paure spero che tu ci riesca poi sei una persona che ci tiene al proprio corpo ne hai fatto uno stile di vita e di lavoro sei una gran gnocca e questa non è convinzione ma ha dato di fatto si ha detto delle cose vere sull'ironia eccetera Antonella punto c73 mi dice sono convinta che il tuo sorriso nasconda tanta malinconia ma credo anche visto che ti seguo e ti ascolto che tu abbia le capacità per rialzarti sempre magari con uno strato di più di corazza un bacio grande allora questi tutte queste parole le prendo come uno sprone quindi grazie di avermi comunque mandato in questo video dei messaggi che sono le vostre convinzioni su di me ma che mi danno anche tanta forza perché sono complimenti perché sono cose belle che mi dite penso di te quello che trasmetti a me dice Mary G forever onestà generosità con chi ti merita amica e persona fedelissima con presunzione dico che queste cose sono molto vere sono generosa con chi merita sono molto generosa per una volta ho deciso di ammetterlo e di dirlo perché sono veramente molto generosa con chi merita sono la classica persona che per le persone che ama fa veramente un sacco di cose tipo sei una persona che a me è cara tipo compie gli anni adoro organizzare un sacco di cose adoro più dare che ricevere sono generosa ma sono generosa al di là del denaro cioè poi sono anche generosa di denaro non sono per niente attaccata al denaro ma molto più generosa nel creare delle cose nel manifestare delle cose amica e persona fedelissima ritengo assolutamente di sì mrs violet plus dice non hai un grande rapporto con i tuoi genitori hai ragione nane883 dice sei single dopo anni e anni di relazione boom qui questa persona ha fatto un'affermazione quindi non hai una domanda devo rispondere hai ragione quindi andiamo avanti cristal no basta credo che aver finito make up fan 84 era sì sono convinta che dall'estate scorsa ad oggi la tua vita sentimentale sia drasticamente cambiata no non è dall'estate scorsa la mia vita sentimentale è cambiata ormai più di un anno fa so che a voi sembra più recente perché per tanti mesi ho più nascosto questa cosa forse all'inizio non mi rendevo neanche conto non riuscivo assolutamente nemmeno a parlare della cosa quasi nemmeno delle persone che mi stavano super vicine nel senso che non la volevo non volevo cioè parlavo del mio malessere ma non lo volevo dire questa cosa non riuscivo proprio a pronunciarla sta parola quindi no non è dall'estate scorsa è più di un anno Silvia Dula dice sei molto severa con te stessa e poco con gli altri caspiterina se ci hai azzeccato io sono una che è severissima con se stessa se io sbaglio qualcosa mi macero mi torturo e mi autopunisco tantissimo poi VD8990 dice ho l'idea che tu ti sia pentita di essere andata a vivere a Milano vero? no no non mi sono mai pentita di essere venuta a Milano anzi sono molto molto grata a Milano mi sono sempre trovata molto bene Sara underscore Yamapi punto un due tre quattro dice sempre forte ed energica una super donna ma secondo me sei fragile assai sensibilissima di facile lacrima in occasioni felici ed infelici in realtà non sono di facile lacrima ma ne ho versate tante ultimamente ma non sono di facile lacrima anzi sono quella che tiene tiene per poi esplodere in maniere eccessive e anche se ti mostri una super donna integrata nello spirito secondo me soffri la solitudine quando sei sola mi dai l'impressione di rimpiangere la solitudine e il passato sei forte ma fragilissima ti ammiro tanto mi aiuta a seguirti perché sei tu sai dore grazie mille tutte le cose che hai detto sono vere ma sono cose che mi avete comunque detto appunto in tante sì c'è tanta solitudine lucia del rico punto sette cinque due mi dice sei una donna che sceglie bene le sue amicizie ha una sfera privatissima alla quale si accede solo se si è degni non so questa cosa del solo se si è degni ma sicuramente scelgo bene le mie amicizie ha una sfera privatissima fatico allora soffro la solitudine ma non riesco ad avere delle amicizie per puro diletto di stare in compagnia anche se mi servirebbe e dovrei farlo cerco sempre qualcosa di più le persone devono essere come dico io non mi trovo bene se non sono fatte in un certo modo però soffro la solitudine alla fine della fiera nel senso che sapete quando si è stato tanti anni con una persona si fa un po' l'errore o comunque capita di chiudersi un po' all'interno della coppia quindi poi ci si trova magari un po' sole sei come la tua terra dura all'esterno ma straordinaria perché ha la sensibilità di andare oltre da aspettare credo di rivedermi abbastanza in questa definizione Cecilien dice sei forte ma allo stesso tempo hai un'anima molto fragile e molta paura di soffrire e per questo tendi a tenere le persone a distanza di sicurezza rinunciando così anche alle piacevoli scoperte che potresti fare sono molto d'accordo con questa cosa che dici ma vedo che è una cosa che traspare che io sia molto fragile molto sensibile che stia passando un periodo difficile ciao cara Silvia cosa penso che tu abbia un gran voglia di partire e tornare nella tua dorata a Sardegna è vero ma non me la sento per il momento di andarci a vivere definitivamente per una questione di paura di lasciare il lavoro determinate dinamiche che mi legano a Milano Palli 9 dice a volte ho l'impressione che tu ti senta molto sola ed è un'impressione assolutamente vera Silvia Simpson che mi segue dalla notte dei tempi dice ma che bell'idea Silvia penso che tu abbia questa del video intendo penso che tu abbia costruito un muro per sopravvivere ma quando permetti alle persone di varcarlo dietro si c'era una persona dolce leare genelosa è fragile una persona della quale avere cura sì sono assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto mi rivedo mi ritrovo Lori Magia dice ti seguo da un paio d'anni mi tieni in compagnia con i tuoi video e le tue storie su Instagram non commento sempre ma certe cose le avevo capite quando sono successe e ti dico fregatene tutti quelli che ti criticano che vogliono indagare cerca di star bene con te stessa e pensa che le persone sono in piccione godono delle pene delle altre persone un grosso bacio vivi alla giornata quindi questo lo prendo diciamo come un augurio un consiglio però penso che le persone sono state un po' una minoranza tante si sono seriamente interessate preoccupate e mi scuso quando non ho risposto mi scuso anche se a volte ho risposto male non è stato semplice non è stato facile a volte perdevo di lucidità soffrivo e non avevo la forza di rispondere in linea di massima insomma non ce l'ho con nessuno di quelli che mi hanno fatto le domande se non con alcune che sono state bannate da questo canale perché lì ho percepito la cattiveria e la voglia vera di mettere in maniera proprio cattiva il coltello nella piaga allora questo mi ha proprio fatto imbestialire ma pochissime persone quindi devo dire che pochissimissime persone e basta io credo di avere risposto a tutte le domande sto controllando se mi sono dimenticata di qualcuna di voi perché avevo fatto due storie in una non sapevo che bisognava cioè la prima volta avevo detto mandatemi i messaggi quindi sono arrivati tutti i messaggi sparsi e per recuperarli ho fatto un po' di fatica mentre nella seconda storia che avevo messa avevo fatto proprio la domanda e lì instagram le raggruppa tutte insieme quindi riesco a rispondere meglio però insomma spero di averle dette tutte se qualcuna di voi non è stata citata mi aveva fatto qualche appunto affermazione che io non ho di cui non ho tenuto conto segnatemela vi prego qua sotto giuro che risponderò nel commento basta io spero che questo video sia stato carino per fare due chiacchiere anche perché ultimamente ho visto che i video nei quali mi metto un po' più a nudo vi racconto qualcosa di me sono stati sono stati graditi sono stati carinamente graditi e mi hanno anche avvicinato probabilmente al pubblico di ragazze anche ragazzi che mi seguono quindi basta io vi ringrazio credo di sapere che ma le avete fatte veramente tante e basta noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao